Secondo Epicuro la vita invece è qui e adesso, quindi ogni bene e ogni male risiedono nella facoltà di sentire nella vita che noi viviamo ora, non in un altro momento, non certamente nel momento del trapasso perché in quel momento noi non ci saremo più. Epicuro quindi libera dal timore della morte i cittadini e i concittadini non solo di Atene ma di tutto il mondo e in un certo senso di tutte le epoche. Forse questa è la portata più rivoluzionaria del messaggio di Epicuro nel suo tempo ma anche oggigiorno. Allora vediamo un po' come si struttura la filosofia di Epicuro. La filosofia di Epicuro viene divisa in tre grandi tronchi. La prima parte è dedicata alla canonica, la seconda alla fisica e la terza parte all'etica che è la parte più importante. La canonica è diciamo la base del filosofare Epicureo. La canonica ci parla quindi della struttura della realtà per Epicuro, la fisica come dice lo stesso nome ci parla della sua teoria sul mondo e quindi della sua teoria sugli atomi perché Epicuro riprende la teoria degli atomi di Democrito e Leucippo e l'etica come per tutti gli altri filosofi ci insegna come comportarci per vivere felicemente. Contro Platone e la sua teoria sull'ingannevolezza delle sensazioni di tutta la conoscenza sensibile in generale Epicuro afferma che le sensazioni sono una verace fonte di conoscenza. Vi ricordate che Platone nella seconda navigazione sosteneva questo. I sensi non ci possono dare la verità. Per conoscere la verità è necessaria un'azione che vada al di là della conoscenza sensibile. È necessario compiere una seconda navigazione. Sono necessari i ragionamenti, i postulati. Secondo Epicuro invece che rifiuta la metafisica platonica e che rimane fortemente ancorato al materialismo, secondo Epicuro invece le sensazioni sono una verace fonte di conoscenza per tre ragioni. Per prima cosa vengono prodotte dall'esterno. Quando io tocco questo tavolo la sensazione di freddo, la sensazione di una superficie liscia vengono prodotte dal contatto con il tavolo, quindi dall'esterno. Perciò la sensazione è passiva, non è la mia mente o la mia mano o la mia anima che sta producendo questo. Io ricevo dall'esterno questo stimolo. Quindi le sensazioni, se sono prodotte dall'esterno e sono passive, saranno veraci. Secondo, la realtà è composta da atomi. Quindi le sensazioni sono il contatto di questi atomi che stanno fuori di noi con gli atomi che compongono il nostro corpo. Perciò noi attraverso i sensi abbiamo dei fantasmi, dei simulacri delle realtà che ci circondano. Quindi gli atomi che costituiscono tutta quanta la realtà vengono in contatto con i nostri organi di senso che a loro volta sono costituiti da atomi. Abbiamo un solo livello di realtà, perciò le sensazioni non sono qualche cosa di diverso dalla realtà che le circonda. Quindi abbiamo una conoscenza vera perché noi non facciamo nient'altro che ricevere attraverso degli atomi delle forme, delle forme sensibili. Secondo, Epicuro, poi, le sensazioni non sono razionali. Quindi non esiste una sensazione attività intellettiva che modifica la mia percezione. Le sensazioni giungono dall'esterno così come sono, sono qualche cosa di fisico e perciò io non posso intervenire con la mia facoltà di giudizio, col mio intelletto e modificarle. Perciò, per queste tre ragioni, le sensazioni vanno ritenute vere e quindi sono il primo criterio di verità. Poi, oltre alla sensazione, sono criterio di verità quelle che Epicuro ha definito le prolessi. Che cosa sono le prolessi? Prolessi significa anticipazione. Quindi, in un certo senso, quando noi per la prima volta, ad esempio, vediamo un aquilone, nella nostra memoria rimane in qualche modo il ricordo, l'orma sensibile di quella immagine che noi abbiamo visto. Quindi, quando di nuovo vediamo in lontananza volare un aquilone nel cielo, immediatamente ricordiamo che si tratta di un aquilone, perché associamo l'immagine di quell'aquilone al nostro ricordo. Nello stesso tempo, quando noi vediamo una persona camminare verso di noi, molte volte possiamo riconoscerla anche prima di vederla in viso, chiaramente, perché ricordiamo magari il modo di vestire o il modo di camminare, oppure il colore dei capelli e quindi queste prolessi, queste anticipazioni servono a darci il ricordo della persona, l'immagine della persona, prima ancora di averne una sensazione e un'impressione chiara e distinta. Quindi, anche le anticipazioni sono criterio di verità. Il terzo criterio, insieme alle sensazioni e alle prolessi, sono quelle che Epicuro definisce sensazioni di piacere e di dolore, perché anche in questo caso noi non siamo influenzati da altro nel decidere ciò che ci arreca dolore e danno e ciò che invece ci arreca piacere e beneficio. Chiunque, toccando il fuoco, si sarà scottato qualche volta, perciò anche lì non interviene un giudizio, una facoltà razionale. Il dolore è qualche cosa di spiacevole e invece la sensazione benefica che apportano certe attività, come il riposo, oppure come il bere quando si ha sete, sono evidentemente per tutti delle attività che portano piacere, sono delle attività che sono fonte di piacere, sono quindi dei beni per noi stessi. Quindi, il terzo criterio di conoscenza sono queste sensazioni di piacere e di dolore che, come le altre sensazioni e le prolessi, non vengono influenzate da una nostra attività a posteriori né da una nostra elucubrazione mentale. Naturalmente, capite, siamo in un orizzonte di totale atomismo, quindi di completo materialismo e tutta la conoscenza è sensibile perché tutta la conoscenza proviene dai sensi. Quindi, in questo schema vediamo in sintesi le sensazioni, le rappresentazioni o prolessi, le emozioni di piacere e di dolore. Questi sono i criteri di verità. Che cos'è allora la conoscenza provabile, la conoscenza opinabile? È quel tipo di conoscenza che dipende non dai sensi direttamente, ma dalle nostre opinioni. Quindi è una conoscenza che può essere a volte vera o a volte falsa, a differenza di dati sensibili. È vera se viene confermata dai sensi. È falsa, invece, se i sensi non la confermano. per esempio, quando io ho la visione di una persona che si sta avvicinando e magari penso che sia Giovanni, ma poi, man mano che la persona si avvicina a me, mi accorgo dalle prolessi che non può essere Giovanni. E alla fine, quando si avvicina ancora di più, vedo che si tratta di Marco, per esempio. In questo caso, la mia opinione non era attestata poi dalla sensazione, dalla prova dei sensi, dalla prova del dato concreto sensibile. Quindi la conoscenza è probabile quando viene data dalle nostre opinioni. opinioni. E le nostre opinioni, a differenza dei dati sensibili, a volte sono vere e a volte sono false. Quelle opinioni che sono vere sono quelle opinioni che ricevono un'attestazione provante da parte dell'esperienza e dell'evidenza. Oppure quelle impressioni che non ricevono un'attestazione contraria.